Scegli tra l'idea è un benintenzionato slogan di una campagna antidroga degli anni Ottanta. Scegli le borse, scegli le schiappe con i tacchi, i cash, i razziti, così sentirai quello che spacciano per felicità. Scegli un iPhone fatto in cina da una donna che si è buttata dalla finestra. Mettilo nella tassa della giacca, resta di una fabbrica di schiavi da sud-est asiatico. Scegli Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram e mille altri mondi per puntare la tua abile contro persone mai incontrate. Scegli agionare i cuorri, ti ammonto cosa hai mangiato a colazione e spera che qualcuno da qualche parte fregni qualcosa. E poi distraerti, e soffoca il dolore con una cosa scorciuta e una droga scorciuta fatta in una qualche fottuta cucina. Scegli agionare i miglaceri di ormogni per la notizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora perché l'ho fatto? Potrei dare milioni di risposte tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, ricordito, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventano esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, i massi di televisione del caso, la lavatrice, la macchina, il cd e la pescatola elettrica. Buona salute, con l'esterno basso, poli salita, muvo, prima casa, moda casual, valigie, salto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze dalla pancia, figli, a passo dal banco, radio d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata e sensore fiscale. Tirano avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno, in cui non rilai. Anna e Matteo